Non riesce a centrare il bersaglio, Sims ci prova due volte, amici, è un... Sims sotto il canestro, Di Bella, penetrazione personale di Di Bella, che vede... Di Bella va dentro, schiacciato da Oert, che bella giocata la dinamica con già... Amici, Oert, Doja, prova ad abbazzare un po' la partita di questo primo... Amici va da tre punti, c'entra il bersaglio, il pallavano, occhio a Doja, due punti... Bandoi appoggia al canestro, ancora altri amici, due contro due della dinamica, amici... Dove punti? In tre punti a coprirlo, in tre punti a Gantini, nessuno a coprire, oltre... Gatti, Gantini, va via bene a... Di Amici, ancora Oert, gioco velocissimo della dinamica, sono Oert... Top 10 della settimana, vediamo se ci riesce in questa... Gantini dentro da Alviti, da sotto, Alviti... Gantini, ha riuscito a fare un po' di bella parte, il colpo piede, e appoggia... Allora, due punti di no... Potete mettere... Non è vero di rompere, non è vero di mancare... Tanti ritmi, attenzione a Sims da sotto, mette i primi due... Ci контрani, non è vero di mancare... E poi, non è vero di mancare, non è vero di mancare un po' di avesse... Allora... Allora, due punti, attenzione a tutti e alla prossima... Abbiamo il fatto anche in una ultima idea in questo momento, il suo minaccia... Si senta di una grande scopante, ma la scopante, è una scopante... Già senta la cosa che ci sono qui, ma la scopante, ha fatto il mio avviso! Noia!!! Anche, c'era sentita parte di San Antonio... E il mio avviso è una cosa che mi sembra... Noi, ho visto, va via bene, esistono, molto... C'è assolutamente bisogno di correre, cercate. E' un minuto di gara. Magalli fa quello che... Mazzanelli, vediamo se riesce a mettere i primi due punti da Soccarini. E' da due! Vai!